Noi abbiamo già in azienda un progetto che risponde alle esigenze dell'economia circolare che si chiama Lola, acronimo di Long Lasting. Per ogni prodotto che esce dalla matita dei nostri disegnatori vengono studiate le caratteristiche per aumentarne la vita utile. Questi tessuti hanno quindi performance particolarmente positive e gran parte dei nostri tessuti viene poi marcata anche con il marchio BIECO che è un marchio che noi abbiamo ormai da due anni e la caratteristica principale è che le fibre dei tessuti devono essere almeno al 50 per cento devono essere fibre riciclate inoltre devono essere tutti i tessuti con le fibre made in Italy e anche il processo completamente made in Italy ma dirò di più il 90 per cento sono addirittura made in Prato. Inoltre ci sono anche le certificazioni del caso quindi Ecotex e GRS. Grazie. Grazie.